In Sicilia abbiamo pagato anche una frammentazione dell'elettorato moderato e soprattutto paghiamo il fatto di avere regalato la Regione a un Presidente come Crocetta. In Sicilia sappiamo che spesso il voto è anche clientelare, il voto per le comunali e quindi io credo che in questo senso si possa comprendere il forte spostamento di voti a favore del partito che rappresenta il Presidente della Regione.